Salve a tutti, bentornati su bioblu.com. Siamo qui in una sede inconsueta che non avete mai visto, è la sede di Roma che vi abbiamo annunciato tante volte e che adesso si realizza. Si realizza proprio nel momento in cui, come sapete, YouTube ha demonetizzato il nostro canale, quindi ci troviamo in un momento di particolare difficoltà dal punto di vista del finanziamento. Quindi vi torniamo a chiedere il vostro supporto e la vostra sincera generosità. Prima di introdurre l'ospite di oggi vorrei solo fare un ringraziamento allo staff di Roma che ha lavorato intensivamente nelle ultime settimane per rendere possibile questa sede, a Claudio Mestora, alla sua lungimiranza, alla sua caparbietà e vorrei dire anche alla sua follia, alla sua lucida follia e soprattutto a voi, al nostro pubblico che ci guardate, che ci suggerite, che ci criticate, ma soprattutto che ci sostenete. Detto questo passo la camera a Franco Fragassi, giornalista noto su Bioblu. Ci vediamo oggi per discutere, per riepilogare la biografia di Mario Draghi. Tu, Franco, nei tuoi libri ti sei spesso occupato di Draghi, nelle varie fasi della sua carriera e quindi oggi è un'occasione per ripercorrerle insieme. La prima tappa, credo che siamo d'accordo che sia quel famoso giugno del 1992 quando il panfiro Britannia ormeggia a Civitavecchia. Che cosa accadde quel giorno, Franco? Allora, intanto buongiorno. Il panfiro Britannia è uno yacht che appartiene alla corona britannica. perché quel panfiro doveva essere parcheggiato a Civitavecchia nel giugno del 1992? Perché una persona, un boiardo di Stato all'epoca, aveva deciso di organizzare una particolare crociera, una crociera che durava un giorno, una crociera che doveva ospitare i principali amministratori delegati delle grandi aziende italiane, delle banche, alcuni dei principali politici e alcuni dei principali uomini di Stato italiani. Che cosa devono fare su questa barca? Devono incontrare, anzi, discutere, incontrando altri soggetti. Questi altri soggetti erano amministratori delegati di grandi gruppi finanziari o bancari mondiali. Che cosa si è deciso nel corso di questa crociera lungo un giorno? Lo si è scoperto dopo, al di là dei racconti di chi era presente, ovvero la privatizzazione, la svendita dell'intero patrimonio pubblico italiano, quasi l'intero patrimonio pubblico italiano. L'Italia nel 1992 era un paese anomalo, era il paese che possedeva la settima più grande multinazionale del pianeta, il che di per sé non è una cosa strana, la cosa strana è che questa multinazionale era pubblica, si chiamava IRI, esattamente, e quindi era un paese che faceva gola, era un paese capitalista con una struttura economica socialista. Faceva gola a tanti, oltre che era un giocattolo che bisognava smontare perché è il momento di smontarlo. E questo è quello che è accaduto negli anni 90. Allora l'uomo, il boiardo di Stato che organizzò tutto quanto questo, si chiamava Mario Draghi, che all'epoca era direttore generale del Ministero del Tesoro e fu nominato responsabile di un particolare ufficio all'interno del Ministero del Tesoro che si occupava esattamente delle privatizzazioni. Privatizzazioni che in quel momento furono presentate al popolo italiano come una misura indispensabile per poter evitare la crisi, contrarre il debito pubblico, le solite frasi, retoriche che sentiamo ancora adesso, no? Sì, diciamo che l'Italia aveva bisogno di entrare nell'euro, di entrare nel meccanismo dell'euro e quindi doveva rimettere a posto i propri conti, come si dice. Con la vendita di centinaia, veramente centinaia di aziende di Stato, alcune enormi, pensiamo all'Ilva, pensiamo all'Italia, pensiamo all'autostrade per l'Italia, tanto per fare tre nomi che sono sul tavolo adesso del Mise, insomma, per risolvere queste crisi e pensiamo a molte altre di queste aziende. È una vendita che fruttò sicuramente molti soldi, però questi soldi entrarono furono un one shot, cioè entrarono e basta, poi non entrò più nulla e alla lunga ovviamente questo rappresentò dal punto di vista economico un danno enorme per l'erario e per le entrate di Stato. Dal punto di vista politica e sociale invece un danno ancora maggiore. Questa manovra che venne fatta negli anni 90 fu qualcosa che si svolse contemporaneamente a una serie di altre cose che accaddero in quegli anni, a partire dal 1992. Il 1992 è anche l'anno di altri due eventi. Il primo fu a febbraio del 1992 l'inizio di Tangentopoli e il secondo a maggio e poi luglio del 1992 l'anno delle stragi di mafia. Questi tre eventi insieme, l'inizio delle privatizzazioni, Tangentopoli e le stragi di mafia, non sono tre eventi separati tra di loro ma sono più o meno frutto della stessa, dello stesso fiume carsico che poi doveva apparire nell'Italia che è oggi. Voglio farti questa domanda che più che altro è una delle tesi che sostengono i sostenitori di Draghi, che lui in quel periodo lì in realtà non aveva un ruolo politico che era invece nelle mani di Prodi, insomma dei Presidenti del Consiglio che gestirono poi di fatto questa frase, questa fase ma soltanto un ruolo tecnico, essendo un importante funzionario del Ministero del Tesoro. Tu come rispondi a questa obiezione? Che sì, che è vero che non aveva un ruolo politico e ci sono altre persone che hanno enormi responsabilità per quello che accadde. Però fu un ruolo tecnico non secondario, primo perché ripeto, quella crociera dove vennero pianificate una serie di cose la organizzò lui, non qualcun altro. Secondo perché lui era un tecnico sui generis, non era semplicemente un dirigente, il più alto dirigente di un ministero, era colui che le pensava certe cose, tant'è vero che al termine di questa sua esperienza lui ottenne un ruolo di estremo prestigio nella finanza, perché divenne il responsabile europeo, quindi non qualsiasi, il responsabile europeo degli investimenti di Goldman Sachs, di una delle più grandi banche finanziarie, perché si, da una parte gli venne riconosciuto il suo valore, perché Draghi, tutto si può dire tranne con insieme a persona, molto intelligente e molto competente, quindi gli venne riconosciuto il suo valore, dall'altra viene il sospetto che in qualche modo sia il premio produzione per quello che lui è riuscito a ottenere. Forse fu il primo clamoroso passaggio dal pubblico al privato e viceversa, che poi negli anni 2000 invece abbiamo visto così verificarsi sempre più frequentemente, insomma, e quindi ecco nel 2002 Mario Draghi diventa vicepresidente del Goldman Sachs, mi dico bene? Sì, soprattutto responsabile europeo, che non è una cosa da poco, e fa quello, Mario Draghi abbiamo detto è un uomo, è un burocrate di Stato, nasce come un burocrate di Stato, però la sua formazione intellettuale, la sua formazione economica lo avvicina molto al mondo della finanza, nel suo modo di ragionare, tant'è che lui nel corso degli anni 90 non si privatizzano semplicemente le aziende di Stato, si privatizzano le banche, fino al 92 le banche italiane erano pubbliche, tutte, non esistevano le banche private, nel 92 invece vengono privatizzate le banche italiane, quindi non è solo l'industria, tutto il sistema viene privatizzato, e lui infatti finisce in una banca d'affari, perché le banche italiane diventano banche d'affari a loro volta, in qualche modo vengono mangiate la maggior parte di queste grandi banche d'affari internazionali, e lui cosa va a fare quando entra in Goldman Sachs? Non fa semplicemente operazioni economiche, lui fa operazioni finanziarie, perché quello che molti si dimenticano di dire è che Draghi quando entrò in Goldman Sachs avallò un'operazione, secondo me si trattò di una truffa, più nemmeno, allora la Grecia aveva esattamente lo stesso problema che aveva l'Italia, che avevano anche altri paesi per entrare nell'euro, quindi riaggiustare i conti, i conti greci non stavano messi bene, in parte per colpa di greci ma solo in piccolissima parte, in gran parte per colpa di altri paesi e di altre aziende, la Grecia era indebitata sostanzialmente dalla metà dell'Ottocento, per colpa dell'Europa, della Germania, dell'Inghilterra e così via, e non riusciva a scollarsi di dosso questo debito, perché questi stati, questi governi continuavano a perpetrare, continuavano a affossare la Grecia impedendole anche di costruire un suo tessuto industriale, quindi si ritrovò a un certo punto alla fine degli anni del secolo e aveva bisogno, almeno dal loro punto di vista, per entrare nell'euro di risolvere la questione del bilancio. Allora Goldman Sachs si presentò, non fu la Grecia a chiederlo, Goldman Sachs si presentò dai greci sapendo esattamente la necessità, gli disse vi risolviamo noi il problema, non vi preoccupate, voi affidateci la questione e ve la risolviamo, basta che ci mettete un paio di firmette qua sotto. Cosa hanno firmato? Dei contratti che sono francamente difficilmente comprensibili, cioè quei contratti che li capiscono dieci persone al mondo, cioè quelli che li preparano sostanzialmente, ed erano dei contratti derivati. Cosa facevano questi derivati? Come se facessero, come fanno gli illusionisti, gli illusionisti che fanno? Fanno sparire l'elefante dal palco, l'elefante continua a stare sul palco ma tu non lo vedi più. Ecco, il debito greco continua ad essere lì ma non lo vedi più, spariva perché veniva Goldman Sachs in prestito per un paio d'anni, il tempo per far rientrare i conti e far entrare la Grecia e l'Unione Europea e poi riappariva subito dopo. Il problema è che non solo riappariva il debito ma riapparivano anche gli interessi sul debito perché Goldman Sachs per una cosa del genere si è fatta pagare molto bene, sia per il lavoro sia come interessi per questa sorta di operazione che riusciva a fare. Scusa, la Grecia in che anno è entrata nell'Euro? E' entrata esattamente quando è entrata l'Italia. Quindi questa operazione è avvenuta prima della... E' avvenuta mentre Draghi stava per arrivare, dopodiché Draghi arriva e avalla, perché questa operazione è durata fino al 2004-2005, Draghi continua a avallare questa operazione, non dice niente a nessuno, di questa operazione non ne sapeva niente nessuno, non ne sapeva niente il Parlamento greco, nessuno sapeva niente di questa cosa. Dopodiché però quando Draghi diventa Presidente della BCE, lui sapeva esattamente perché la Grecia stava in quella condizione. Zitto, muto, non ha detto una parola, ha detto scusate, è colpa mia, visto che io so come sono entrati in questa condizione qui, so anche come tirarli fuori. No. Siamo nel 2011 a questo punto. Qui siamo nel 2011 e lui ha sostanzialmente, come dire, fatto finta e niente e ha avallato le politiche che in quel momento stava portando avanti la troica, o comunque la finanza mondiale, l'elite neoliberista, non so come definirla, no? Quindi i greci, i cattivi bisogna punirli. E questo è quello che lui ha fatto arrivando addirittura di fronte al tentativo dei greci di uscirne, loro hanno indetto un referendum perché dobbiamo uscire da questa situazione. Lui che ha fatto, da Presidente della BCE, ha costretto le banche greche a non emettere più i soldi a chi andava a ritirarli col Bancomat, come per dire, state attenti perché se fate qualcosa di sbagliato vi riduciamo in questa maniera. Sono minacce mafiose queste, però fatte da un'istituzione internazionale, quindi quello va bene. E lui era Presidente della BCE in quel momento lì, quindi non solo non ha fatto nulla per risolvere i problemi che aveva creato, che aveva contribuito a creare, ma ci ha aggiunto la cattiveria del bullo. Certo, sì, il caso della Grecia è veramente paradigmatico, io lo riprenderei subito dopo lo spot che mandiamo adesso e così riprendiamo da lì. Allora, siamo di nuovo qui con Franco Fracassi su BioBlu. Stavamo parlando appunto del ruolo che ebbe Mario Draghi, prima come Vice Presidente di Goldman Sachs e poi come Presidente della Banca Centrale Europea nella crisi greca. Ecco, tu hai scritto un libro con Tiziana Alterio che si intitolava eloquentemente Colpo di Stato, perché da un punto di vista sotto le righe, tra le righe si trattò di quello, un colpo di Stato finanziario, è questa la cosa che è successa, secondo te Franco? Si trattò di un colpo di Stato vero e proprio. Nel libro, io questo lo racconto, nel senso che arrivò un emissario del Dipartimento di Stato americano ad Atene minacciando un colpo di Stato militare vero e proprio, quindi diciamo che non si trattò semplicemente di un colpo di Stato finanziario. Si era deciso di portare la Grecia sul, nemmeno sull'orro del barato, gettarla nel baratro e fare una sorta di esperimento sociale, non so, un esperimento economico, sociale e così via, guadagnandoci ovviamente su e per farlo si era disposti perfino a far sfilare i cari armati per le strade di Atene. Tra l'altro, come tu dicevi, ci fu proprio quel momento a ridosso del referendum indetto da Tsipras e Varoufakis, in cui la BCE chiuse i rubinetti bancari, quindi le persone non potevano neanche più ritirare i soldi al Bancomat, fu un atto di vera e propria aggressione, insomma, no? Bullismo, proprio puro bullismo. No, poi tra l'altro tu parlavi appunto dell'Italia di prima degli anni 90, no? Del fatto che le banche italiane fossero tutte pubbliche, sembra quasi di parlare di un'epoca, non dico preistorica, insomma, però che non siano passati così pochi anni da quel momento. Oggi vediamo che, per esempio, lo Stato non riesce a recuperare autostrade, per esempio, nonostante tutto quello che è successo col Ponte Morandi, mentre invece in quegli anni la svendita del patrimonio pubblico fu realizzata in maniera così semplice, così veloce, come fosse bere un bicchiere d'acqua, insomma. Quale altro fu il ruolo di Mario Draghi nella storia italiana, Franco? Allora, Mario Draghi ebbe due altri ruoli, uno molto importante in Italia e un altro nel mondo. Allora, in Italia Mario Draghi è stato per un mandato governatore della Banca d'Italia, su suggerimento di Berlusconi. Berlusconi è molto presente nella storia di Draghi, sì, e lui l'ha fatto, governatore della Banca d'Italia, e l'ha fatto anche il presidente della BCE, insomma, tutte e due sono sul suo input, diciamo. Berlusconi l'ha suggerito in entrambi i casi, quindi... E' stata anche vittima, però, di Draghi. Sì, ma anche per capire, diciamo, la collocazione anche politica di Draghi, insomma, non è un caso che Forza Italia in questo governo abbia un peso non indifferente. Da governatore della Banca Italia, lui ha fatto una cosa brutta, una cosa veramente di quelle cose spiacevoli che accadono nella storia di un paese. Allora c'era il presidente della terza banca italiana, che è il Monte dei Paschi, si chiama Mussari, che aveva deciso di acquistare una banca che non valeva nulla, ma proprio non valeva nulla, non solo non valeva nulla, era un danno, chiunque l'avesse presa sarebbe autodistrutto. Decide di acquistare senza conoscerla, e questa è la cosa più assurda. Mussari decide di acquistare Banca Anton Veneta in una telefonata che dura esattamente 5 minuti. Nel corso di quella telefonata lui dovette decidere se acquistarla o meno, senza avere nessuna informazione su quella banca. Voi immaginate se qualcuno vi proponesse di acquistare una casa al telefono, mi chiamano, volete comprare una casa? Voi non sapete né l'indirizzo, né se questa casa, quanto è grande la casa, in che condizioni si trova, se va ristrutturata, non sapete se la casa ha un'ipoteca, se ci sono degli inquilini e quindi vi ritrovate la casa già affittata, non sapete nulla di quella casa e quella casa la strapagate, cioè non solo dovete decidere, la spagate ovviamente molto, 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 molto di più di quanto potrebbe valere. E voi avete 5 minuti al telefono per decidere, io credo che nessuna persona al mondo, sana di mente, lo farebbe. Mussari ha deciso di farlo, ha deciso di farlo, ha deciso di pagare quella banca 17 miliardi, 17 miliardi, una banca che valeva meno di 100 milioni e che non aveva, e che era una sorta di congegno di autodistruzione, cioè che avrebbe distrutto il Monte dei Paschi. Draghi era governatore della Banca d'Italia, Draghi doveva dare l'autorizzazione per questo acquisto di una banca italiana che confronto di un'altra banca italiana e Draghi aveva sul tavolo un rapporto degli ispettori della Banca d'Italia che spiegavano esattamente che cos'era Banca Anton Veneta e dicevano chiaramente che Banca Anton Veneta era una banca decotta, che non poteva essere acquistata da Monte dei Paschi. Draghi firmò per l'acquisizione da parte del Monte dei Paschi, cioè nonostante Mussari è un sospetto criminale sotto processo per questa cosa, e quindi ha fatto qualcosa di criminoso probabilmente. Ma Draghi era a conoscenza di questo, sapeva che si sta per commettere un crimine contro l'Italia perché quella banca, il Monte dei Paschi, che è costata a tutti noi risparmiatori dall'epoca, da allora, ci è costato 64 miliardi di euro, cioè lo Stato italiano tirò fuori 64 miliardi di euro per riparare a quel danno che fece Mussari con la complicità dei Draghi. Sì, Franco tu hai scritto un libro insieme a Elio Lannutti proprio sulla questione Monte dei Paschi, si chiama Morte dei Paschi, pubblicata da Chiare Lettere, ma perché avvenne quell'acquisto? Adesso usciamo un attimo fuori dal tema. Quell'acquisto avvenne perché, e lì c'è l'altro di Draghi, avvenne perché ci fu la più grande operazione della storia bancaria, in cui una banca, la quinta banca del mondo a BN AMRO era in difficoltà, perché era in difficoltà a BN AMRO? Perché aveva acquistato qualche anno prima Banca Anton Veneta, esattamente per quel motivo lì, era in difficoltà, allora si decise di dividere la proprietà della banca, di frazionarla da parte di altre banche, doveva prendere ciascuna una fetta, un terzo, un terzo, un terzo. Venne convolta in questa operazione Royal Bank of Scotland, la seconda banca europea, la principale banca del Belgio Fortis e la principale banca europea, Banco Santander che è spagnola. Appunto ognuno doveva prendersi una fetta, al Santander doveva finire la parte italiana anche, quindi Banca Anton Veneta. Nei verbali interni che ci sono, che sono pubblici del Banco Santander, loro discutono dicendo ma siamo matti a comprare questa cosa, è una palla al piede, dobbiamo trovare, c'è qualcosa che c'è scritto, dobbiamo trovare un pollo che si prenda a Banca Anton Veneta al posto nostro e quel pollo era esattamente Mussari, che paga 17 miliardi, una banca che non valeva nulla, che era esattamente la fetta che Santander doveva versare per la sua parte di ABN AMRO, ABN AMRO valeva 87 miliardi, la parte che doveva spendere Santander per prendersi tutte le banche sudamericane, eccetera, era 17 miliardi esattamente quanto paga il Monte dei Paschi, sostanzialmente il Monte dei Paschi ha pagato a Santander l'intera operazione, Santander si è ritrovato nella principale banca di tutta quanta l'America Latina, dopo questa operazione, gratis, perché l'ha pagata, Monte dei Paschi e l'abbiamo pagata per la verità a tutti quanti i loro risparmiatori. Chi è che propose? Accadde poi un'altra cosa, accadde che dopo questa operazione, Monte dei Paschi ovviamente fallì, sostanzialmente fallita, Royal Bank of Scotland è fallita ed è stata salvata dallo Stato britannico, Fortis è fallita ed è stata salvata dallo Stato belga, ABN AMRO è fallita ed è stata salvata dallo Stato olandese, sostanzialmente sono fallite le più grandi banche europee, è crollato il sistema banca europeo facendo arrivare la crisi agli Stati Uniti e a noi. Chi propose quell'affare? Chi è che suggerì quell'affare? Mario Draghi. Mario Draghi all'epoca era presidente del Financial Stability Forum, è un'organizzazione che credo conosca quasi nessuno, ha sede a Basilea, però ha un'importanza fondamentale, chiave per l'economia mondiale. Il Financial Stability Forum ha uno scopo, esiste però uno scopo, impedire le crisi sistemiche, deve impedire le crisi sistemiche, esattamente quelle che avvengono ogni tanto nel mondo, ecco, deve impedire queste cose e per farlo ha un potere straordinario, può bloccare qualsiasi transazione consistente di pacchetti azionari da una grande società a un'altra grande società, può impedire le fusioni tra banche, può impedire gli acquisti, le scalate in borsa di grandi società, che ne so, come Mediaset con Vivandi, eccetera, eccetera, può impedire un sacco di cose, può anche intervenire nelle politiche economiche degli Stati, cioè può dire allo Stato, tu questa finanziaria non la fai passare, perché non va bene, perché farebbe crollare il sistema economico europeo, che so io. Senza la firma del Presidente del Financial Stability Forum non si fa nulla. È un'istituzione europea, è un'istituzione mondiale, è probabilmente l'istituzione più importante dal punto di vista economico e finanziario che esiste al mondo. Qual è il periodo in cui Draghi è stato Presidente? Credo dal 2004, mi pare, al 2011, adesso il 2011 sicuramente, il 2004 non sono sicuro, però più o meno intorno a quella data, è stata Presidente per parecchio tempo, per molti anni. E durante la sua presidenza c'è stato questo evento, c'è stato, quindi il crollo delle banche europee e l'arrivo della crisi in Europa, c'è stato il crollo dei titoli sovrani, dei famosi pigs nel 2011 che convolse l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, l'Irlanda, Cipro e lui non impedì quella cosa lì, soprattutto ci fu il crollo dei mutui su Prime negli Stati Uniti nel 2008. Lui non fece nulla per impedire quel crollo. Ed era sua responsabilità. Allora, voi ditemi, una persona che… Era prevedibile quel crollo, secondo te? C'è chi l'ha previsto, c'è chi l'ha previsto, ci ha fatto un sacco di soldi. Ci sono delle persone che dicono, è uno col senno di poi, no, ci sono dei soggetti che l'hanno previsto e ci hanno costruito delle fortune sopra. C'è un film, la grande scommessa. Esattamente, che racconta di queste persone. Allora, tu, da presidente del Financial Stability Forum, combini un casino mondiale e che fai? Di solito, in una situazione del genere, non dovresti manco amministrare un condominio, gli hai nominato presidente della BCE. Allora, diciamo che l'unico pensiero che viene, ovviamente non ci sono prove per questo, è che Draghi non abbia combinato un casino mondiale. Cioè, è esattamente quello che doveva fare. Draghi abbia operato bene, non male. E la cosa è inquietante, perché se operare bene vuol dire distruggere il tessuto economico e sociale dell'intero pianeta. Certo, come tu dici, non abbiamo prove, però, insomma, la dinamica... Se uno viene promosso vuol dire che ha fatto bene e non ha fatto male. Vabbè, quindi abbiamo ripassato un po' la storia degli ultimi anni. Purtroppo sembra una storia, sembra più un film horror, insomma, che una storia dell'età moderna. Però immagino che tu non creda, diciamo, all'ipotesi che Mario Draghi possa essersi convertito a, diciamo, a un'economia keynesiana, alla modern monetary theory, che abbia cambiato il suo ruolo, che abbia cambiato squadra, diciamo, negli ultimi anni. Allora, io parlo sempre dal presupposto che la ritenzione è possibile per tutti. E vada concessa una chance, una seconda, terza, quarta chance a chiunque. Detto questo, vedo quello che sta succedendo da un mese a questa parte in Italia. Non mi pare che né dalla squadra di governo che ha fatto Draghi, né dal discorso che ha fatto Draghi in Senato e alla Camera ci sia nemmeno un vago accenno a qualcosa di diverso delle politiche che lui ha sempre portato avanti. Quindi non mi pare. Cioè io lo spero, lo spero per questo paese, lo spero per il mondo. Perché Draghi non è il presidente del Consiglio italiano. Vedrete che Draghi nel giro di qualche mese si prenderà l'Europa, è come la banda navagliana Prendemos e Roma, no? Ecco, Draghi è colui che si prenderà, sarà la nuova Merkel, non so come dire. La Merkel andrà via, qualcun altro... Ma in che ruolo potrebbe accadere una cosa del genere? Perché... Beh, lui è il leader, lui è uno dei 4-5 personaggi più potenti del mondo. Ma lo è, perché è così, insomma. Un personaggio del genere che diventa presidente del Consiglio di un paese, non è solo il presidente del Consiglio di quel paese, intanto è anche ministro degli esteri di quel paese, ovviamente Di Maio è una figurina. Ma lo sarà, sarà probabilmente il ministro degli esteri dell'Europa, sarà colui che gestirà all'Europa, colui che darà il segno di dove dovrà andare il recovery fund per tutta Europa. Cioè, immagino al tavolo adesso, quando si vedranno nei vertici europei, ci sarà Draghi, con tutta questa luce che gli splende intorno, e poi gli altri, alla presenza del re, che gli chiederanno consiglio e così via. Cioè, Draghi questo è. Draghi è qualcosa che va molto al di là dell'Italia. Purtroppo, aggiungo io. Guarda, l'ultima domanda che ti faccio è che tu hai parlato del suo ruolo da un punto di vista metafisico, ma concretamente tu te lo immagini veramente presidente della Repubblica l'anno prossimo, quando scadrà il mandato di Mattarella, cosa potrebbe succedere in quel momento? Perché in realtà lui sarà presidente del Consiglio in quel momento lì, quindi potrebbe esserci un Mattarella bis, un po' come è successo con Napolitano, che lascia poi l'Italia andare alle elezioni e a quel punto Draghi si libera per... Insomma... Sì, questa può essere un'ipotesi. Un presidente del Consiglio diventa presidente della Repubblica, suona un po' strano. Anche perché, insomma, lui comunque c'ha... Cioè, esiste qualcosa di più importante di essere presidente della Repubblica. Cioè, lui c'ha una missione. Deve gestire la ricostruzione di un continente, di un paese e di un continente. Voi immaginate il prestigio che dà una cosa del genere e la possibilità... Un'occasione unica. Cioè, un'occasione che capita... L'ultima volta è capitata quanto? 75 anni fa? Stiamo parlando di qualcosa che forse riacchierà tra 30, 40, 50 anni. Cioè, tu puoi ricostruire un continente e dare il segno su questa cosa. Cioè, decidere in che direzione dovrà andare il treno dell'Italia e dell'Europa. Nord, sud, est, ovest, sud, est... Quali scambi azionare? Deciderai questo. Deciderai in che mondo vivranno i nostri figli e i nostri nipoti. Ma un'occasione del genere quando ricapita. Perché stavamo fatto credere Conte, se non per questo? No? Perché bisognava gestire la più poderosa trasformazione di un paese sia mai stata fatta. Allora, ci vorrà un minimo di tempo, non credo che ce la farà in dieci mesi. Quindi immagino che sarebbe assurdo, magari potrebbe pure succedere, ma sarebbe assurdo, senza senso se lui diventasse presidente della Repubblica tra un anno. Insomma, quando verrà rieletto il nuovo presidente. Mentre invece, avendo due anni davanti di prospettiva per poter incidere sull'Italia, perché il recovery fund comunque in alcuni due o tre anni si deve spendere tutto, quasi. Quindi, incidere sul recovery fund italiano e incidere su quello europeo. Cacchio! Se no perché stavo chiamato Draghi? Potrebbe essere chiamato un'altra persona, insomma, di minor cabotaggio, che però più o meno porta avanti quelle politiche. Draghi è un'altra cosa. E' proprio un'altra cosa. Posso aggiungere una cosa che è molto prosaica, nel senso che io adesso, le cose che vi ho raccontato, le ho scritte in tre libri. E come voi sapete, questi libri non li trovate in giro. Quindi, se volete leggere di quello che vi ho raccontato e molto altro, scrivetemi un'e-mail, molto semplicemente. Non solo chiedere questa cosa. Se la vuoi ripetere, la tua e-mail? francofracassi1, francofracassi1 al numero, quindi francofracassi1.gmail.com Vi scrivete un'e-mail e io vi spiego come fare a avere questi tre libri insieme. Ok, io ne ho letti due, il terzo, il primo, non l'ho ancora letto, ma li consiglio, ecco, diciamo, sicuramente e caldamente. Non credo che avreste potuto vedere un'intervista come questa su altri canali, sulla 7 o sul Tg5 o sulla Rai. Quindi, per continuare a vedere interviste come queste, l'unica possibilità è quella di continuare a darci il vostro sostegno, come state facendo e come avete fatto sempre. Un saluto da me e da franco, alla prossima su bioblu.com Ciao a tutti e dai bioblu! Grazie franco! Grazie a tutti!